Ciao amici, benvenuti! Oggi vi mostro le prestazioni della GTX 1080 Ti. Vi ho già parlato delle specifiche tecniche in diverse occasioni, quindi non sto qua a ripilogarle tutte, date un'occhiata a quei video se non le avete ancora visti. Vi dico solo che possiamo considerare questa GTX 1080 Ti come una sorta di Titan X con delle specifiche riviste a ribasso, ma proprio di poco poco poco. In questo test mi sono concentrato sul confronto di questa scheda con due schede nello specifico, cioè la 1070 e la 1080, ovviamente ho preso come riferimento sempre le Founders Edition. Il tempo è tiranno, amici miei, soprattutto in questo periodo con diverse uscite, però state tranquilli perché continuerò a testarlo. Ho già fatto anche dei test e continuerò a fare dei test anche per TOMS e in futuro vi farò vedere anche i risultati di questa scheda gratis con altri test e anche a confronto con la Titan X. Differentemente dal solito, questa volta non mi limito a farvi vedere i risultati dei test, ma li commenterò uno per uno. Quindi vedrete, come detto, questa scheda 1080 Ti al confronto con 1080 e 1070 in tre differenti risoluzioni, quindi 1080p, 1440p e 4K, cioè il 2160p. Iniziamo con GTA. In questo caso l'incremento di prestazioni della 1080 Ti va dal 20 al 30%, con questa percentuale che aumenta con l'aumentare della risoluzione. I test di GTA che faccio sono estremamente intensivi e le impostazioni che uso non riflettono precisamente quello che la maggior parte dei giocatori utilizzerebbe. Vediamo tuttavia che in questa situazione a risoluzione 2K 1440p si superano i 60fps, mentre a risoluzione 4K il gioco anche con queste impostazioni risulta giocabile nonostante non si superano i 60fps. Metro Last Light mostra degli incrementi percentuali di prestazioni dal 15 al 25% e per quanto riguarda gli fps ritroviamo una situazione simile a quella che abbiamo già visto con GTA. Con Far Cry iniziamo a vedere dei limiti del vantaggio prestazionale a risoluzione 1080p risoluzione, per cui anche il resto del sistema non permette alla scheda grafica di esprimersi al meglio. A risoluzione 4K si ha il maggior vantaggio, vale a circa il 25% con un framerate molto vicino ai 60fps. Con Shadow Mordor abbiamo degli incrementi prestazionali che vanno dal circa il 7 al circa il 30% di prestazioni in più e in ogni caso siamo ben sopra i 60fps. Per i 3DMark non faccio particolari commenti, si commentano da sole e abbiamo degli incrementi prestazionali che arrivano fino al 20%. Con The Division si va dal 20 al 30% di guadagnio prestazionale in base alla risoluzione e anche a risoluzione 4K puntiamo ai 60fps. Doom mostra un tetto netto a risoluzione full HD e anche 1440p, mentre il maggior vantaggio sia a risoluzione 4K e anche in questo caso siamo oltre i 60fps. Ritroviamo più o meno la stessa situazione anche con Hitman. A risoluzione 4K abbiamo un guadagno del 27% delle prestazioni e anche in questo caso superiamo la soglia dei 60fps. Ash of Singularity è un test estremamente intensivo, ma in questo caso abbiamo un guadagno prestazionale abbastanza lineare dal 20 al 25% spalmato su tutte le risoluzioni. E anche in questo caso i 60fps li abbiamo sempre anche a risoluzione 4K. Situazione che possiamo definire classica in base anche agli altri giochi anche con Rise of the Tomb Raider, con un risultato miglioramento prestazionale che va da circa il 15 al 25% e anche in questo caso siamo sopra i 60fps. Warhammer tassa in generale tutto il sistema e il miglior vantaggio lo abbiamo a risoluzione più alta 4K con un più 28%, lo troviamo ancora una volta, più di 60fps. Infine con Fallout in base alla risoluzione il vantaggio va dai 12 al 25% di prestazioni in più e ancora una volta, indovinate, siamo sopra i 60fps. Se facciamo una media di tutti questi test che ho effettuato siamo mediamente appunto a più 17% di prestazioni se confrontiamo la T rispetto alla 1080. Tuttavia se prendiamo singolarmente i risultati delle varie risoluzioni vediamo come scala linearmente le maggiori prestazioni. Tuttavia se prendiamo le singole risoluzioni singolarmente vediamo appunto che le prestazioni scalano linearmente con un più 10% a risoluzione Full HD, più 18% a risoluzione 2K a 1440p e più 26% a risoluzione 4K. Nvidia ha parlato mediamente di un vantaggio prestazionale superiore a quello che sono riuscito a raggiungere io con i vari test. Ovviamente dipende dal gioco, probabilmente ci sono dei giochi in cui il vantaggio prestazionale è più elevato. Tuttavia già questo vantaggio, questo miglioramento ci dice bene il posizionamento di questa scheda. Oltretutto, apri chiudo a parentesi, siamo all'inizio e sappiamo già che comunque ogni volta che viene presentata una nuova scheda video si può nei mesi, nelle settimane successive con degli affinamenti dei driver migliorare il guadagno prestazionale. Quindi amici, da questi risultati vediamo chiaramente che questa scheda è in grado di gestire senza problemi la risoluzione 4K a una velocità superiore ai 60fps con la maggior parte dei titoli ovviamente al massimo della qualità. Da come cambiano le prestazioni, considerato che il maggior vantaggio sia appunto alla risoluzione 2160p, è chiaro che questa scheda è fatta unicamente per soddisfare i giocatori che necessitano tale risoluzione. Tutti gli altri, quindi chi vuole giocare a meno la risoluzione 4K, dovrebbero non tenerla in considerazione. E in base a questo comportamento c'è anche un'altra conseguenza. Fino a questo momento chi cercava una singola scheda grafica per gestire la risoluzione 4K a più di 60fps cercava una Titan X dal prezzo superiore ai 1000€. Oggi le stesse prestazioni si hanno come una 1080p, che ovviamente ha un costo inferiore. La Titan X quindi in questo momento perde decisamente il significato. Comunque vedremo anche i risultati in un confronto diretto più avanti. Bene ragazzi, quindi se volete giocare a risoluzione 4K a più di 60fps con la maggior parte dei titoli, questa è la scheda che fa per voi. Non costa poco perché parliamo di poco più di 800€. Ovviamente vedremo anche in futuro le schede dei vari partner, custom e come cambierà il mercato dei prezzi anche con l'arrivo di Vega. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video. I video sulla 1080Ti non finiscono qui, avremo modo di parlarne. Comunque per ora possiamo parlarne qui sotto, nei commenti e vi raccomando lasciate un mi piace, condividete questo video e se ancora non lo siete iscrivetevi al canale. Grazie, ci vediamo in un altro video. Ciao!